E torniamo sull'argomento grande fratello, è spuntato fuori un audio, un audio, ricordo a tutti che coloro che vedono il programma da casa, che sentono il programma da casa, quindi vedono tutto e sentono tutto. Perché è successo che il lunedì 28 settembre è andata in onda una puntata abbastanza importante del reality show. C'erano al televoto Arnold, c'era Giselda, c'era Grecia, c'era Vittorio Menozzi, Beatrice Luzzi, insomma c'era un po' di gente. E quindi alla fine ad avere la meglio è stata proprio Beatrice Luzzi che non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina agli altri concorrenti, visto che si era messa in posizione di tranquillità. Il pubblico da casa vede tutto, ha commentato l'attrice, e sa quello che succede. Forse allora non è come dite voi. Allora dovreste vergognarvi di avermi isolata, insultata e di dire continuamente che sono io la cattiva. Non sarà che avete voi una visione di me così deviata? Le persone da casa non sono folli, magari sono loro che interpretano le cose per come stanno. Subito dopo la puntata come sempre i concorrenti sono stati chiamati in confessionale per un commento a caldo. Quando è toccato ad Anita, tuttavia, la regia ha commesso una gaffa. Contenuto del confessionale di Anita Olivieri è stato, tra l'altro, il rapporto conflittuale con Heidi Bach. Le due non riescono proprio ad andare d'accordo. Mentre le telecamere riprendevano alcuni inquilini, la regia ha mandato in onda l'audio del confessionale di Anita. Voi ogni volta mi mandate Heidi di là così io poi non riesco a chiarirci, lo fate apposta. Lo so è il vostro lavoro. Probabilmente si è trattato di una gaffa da parte della regia, ma subito sono piovuti i commenti del pubblico. Tutto falso, scrive un utente, questo lo dimostra. Posso parlare con te come posso parlare con lei, vede Heidi arrivare e se ne va. Lei preferisce parlare dietro per assicurarsi la clip in puntata. Fatto sta che era stata proprio Anita a fare quella battuta su Heidi che non è piaciuta a molti. Parlando con gli altri inquilini, in sostanza Anita ha affermato che Heidi potenzialmente potrebbe iniziare una relazione con tutti gli uomini della casa. Anche in questo caso i telespettatori non l'hanno perdonata. Anita ci insegna la solidarietà femminile esclamando che Heidi si farebbe tutti gli uomini della casa, ha commentato un utente. Un altro ha scritto, per chi dice che stava scherzando, non so voi ma lo scherzo si fa con la persona in questione davanti. Voglio vedere se direbbe la stessa battuta con Heidi presente. curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.